Allora, siamo con Martino e Prestia della Superba e del San Quirico, che sono due amici, rilasciano queste dichiarazioni sulla partita di oggi insieme. Un commento a tutte e due da parte della vostra squadra? Abbiamo fatto sicuramente un gran primo tempo, dove abbiamo fatto due golle, potevamo fare anche il terzo, invece il secondo tempo, dopo cinque minuti abbiamo preso il 2-1 e ci siamo un po' chiusi, loro sono usciti fuori. Comunque, San Quirico è una grande squadra, per noi erano tre punti fondamentali per portare avanti il nostro discorso, cercando di arrivare il più in alto possibile. Comunque, faccio i complimenti al San Quirico, che è un'ottima squadra. Bene, Manuel. Sì, come ha detto Peo, il primo tempo hanno fatto i bravi loro, a parte sono un po' fatti due gol da soli, però comunque non l'abbiamo mai tirato in porta, non l'hanno mai rischiato, mentre il secondo un po' di nervi, un po' con la voglia, siamo riusciti ad aprirla e a provare a pareggiarla fino alla fine, poi all'ultimo secondo abbiamo preso contropiede sull'ultimo calcio d'angolo, però complimenti, era una bella squadra su Tarla Quadrati, che lasciano poche occasioni, è stata una bella partita. Benissimo ragazzi, grazie molto. Ciao Claudio.